Il regalo arancione sotto l'albero di Natale è un bel 2-0 con cui la Pistoiese ha battuto il Novara nella diciassettesima giornata di Serie C. Ha conquistato l'intera posta in palio, tre punti in più in classifica per una quanto meno serena pausa prima della ripartenza della stagione a gennaio 2021. La vittoria casalinga porta la firma di Valiani nel primo tempo e Pierozzi nel secondo. Primi minuti di gioco con uno studio fra le due squadre consapevoli entrambe dell'importanza della gara. Non c'è un gran bel gioco in campo fino al 25esimo quando la Pistoiese sblocca il risultato con la rete di Valiani. Perfetto traversone di Solerio con il capitano arancione che di testa supera l'anni. 1-0 per i padroni di casa. Reazione degli ospiti che in diverse occasioni mettono in difficoltà la retroguardia di casa chiamando in causa anche Peruchini. Poi il primo episodio della sfida. Al 48esimo il Novara resta in 10 per l'espulsione di Collodel, colpevole di aver commesso fallo al limite area su Solerio. Già a Monito il numero 15 piemontese si prende il secondo giallo e deve lasciare il campo. Un primo tempo che si chiude così con la Pistoiese in vantaggio e anche in superiorità numerica. Nella ripresa parte meglio il Novara nonostante si assista ad un botta e risposta. Crea qualche buona azione la Pistoiese ma dall'altra parte anche gli ospiti ci provano. Ma si ristabilisce la parità numerica perché Camilleri, atterrato panico, subisce il secondo giallo e così viene espulso. 10 contro 10. Un match che torna su buoni ritmi in un momento che sembrava di calma. Al 73esimo ecco il raddoppio arancione. C'è Retelli, passaggio filtrante per Pierozzi che batte l'anni di precisione. Scarta Schiavi rientrando sul sinistro e infila il portiere sul palo lontano. Un gol che di fatto chiude la pratica. Anche il Novara tenta qualcosa ma con poche chance. Per la Pistoiese si chiude il 2020 con una vittoria voluta e ottenuta grazie ad una prestazione che ha visto fare al gruppo di mister Riolfo ancora un passettino in avanti.